Fratelli, un nuovo bellissimo giorno per Gesù, che vi ama tanto e anche noi vi amiamo. Grazie Signore, grazie Gesù. Eccoci qui, Signore, di nuovo ad amarti, a benedirti, a pensare a te, a meditare su di te. Grazie, Signore. Signore, permettiti di darti un abbraccio questa mattina, Gesù. Che bello abbracciarti, Signore. Tutte le cose più belle che abbiamo, un fratello, una sorella, una moglie, un marito, un padre, un figlio, Signore, sono una piccola parte di te, Gesù, il nostro Dio onnipotente, che è una persona col padre, il figlio, una persona. Ti benediciamo tanto, tanto, tanto. Grazie, Gesù. Alleluia. Alleluia. Angela, abbiamo una bella storia stamattina per ispirare i fratelli? Sì, sì, sì. Cosa abbiamo di bello? La nostra storia. La nostra storia? Eccola. Molti di noi credenti sono come un uomo che camminava faticosamente lungo la strada, piegato sotto un pesante sacco di patate. Un furgoncino lo raggiunse. L'autista si offrì gentilmente di aiutarlo nel suo viaggio. L'uomo accettò con gioia l'offerta. Una volta seduto, continuò a tenere il suo pesante fardello sulle spalle. Perché non deponi il tuo pesante fardello? Perché lo porti sulle spalle? Chiese l'autista di buon cuore. Oh, rispose l'uomo, sei stato fin troppo gentile ad aiutarmi. Penso che sarebbe troppo che tu porti anche il mio pesante sacco. E così a volte noi credenti continuiamo a piegarci sotto i nostri pesanti fardelli dei quali Gesù ci ha liberati sulla croce. E per questo siamo spesso stanchi e carichi per tutto il nostro cammino della nostra vita. Gloria a Dio. Dio ci aiuta. Gloria a Dio. Grazie Signore. Signore aiutaci a aprire i nostri occhi. Amen. Te mi è capitato? A me mi è capitato. Eh sì. Cerchiamo di non farlo capitare. Grazie Signore. Ma Gesù ha detto chiaramente, guarda, qui c'è alcuna scrittura che ho pregato. Mi aiuti a leggere? Matteo 11, 28 a 30. Sì. Matteo 11, 28 a 30. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio gioco e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio gioco è dolce e il mio carico è leggero. Matteo 11, 28 a 30. Gloria, gloria Signore. Gesù dice chiarissimo qui, scritto, dice venite a me, è Gesù che ci aspetta che veniamo a lui. Oggi ci sono false dottrine per il mondo che ti serve un santo speciale, intercessione di una specialissima santa, perché se no da Gesù non ci puoi arrivare, sono bugie. Gesù, Apocalisse 320, dice io sto bussando la porta nel nostro cuore. Gesù è uno che bussa, 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 bussa. Se uno ha della mia voce, io entrerò da lui. Non serve lo speciale santo con la candelina. Perché questo nella Bibbia non c'è. Sono invenzioni della religione, perché lo devono, capito, solo loro hanno questi santi, nessun altro. Quindi lasciamo perdere il protestantesimo, il cattolicesimo, eccetera, e preghiamo per loro, ma andiamo avanti con Gesù, col Vangelo, con la Bibbia. Cioè, un santo è una santa che deve intercedere. E quando ascolterà Gesù che è troppo occupato per ascoltarmi? Ma ti serve intercessione, ti serve un mediatore, si deve comprare una casa, quello prende il pizzo, prende la sua tangente. Ma Gesù è morto sulla croce, ha dato il suo sangue, è lì che ci aspetta. Andiamo a Isaia 45, 22. Isaia 45, 22. Volgetevi a me e siate salvati, voi tutte le estremità della terra, perché io sono Dio e non ce n'è alcun altro. Isaia 45, 22. Amen, amen. Isaia 45, 22. Volgetevi a me, a me, a me e siate salvati. Amen. Se ti volge qualcun altro, non sei salvato. Se ti volge un santo, non sei salvato. Volgeti a me. Grazie, Signore. E per questo è che continuiamo a volte a portare le patate sulle spalle. Perché diciamo, ma no, mica posso disturbare Dio con le mie patate, le porto io. Meno male che c'è santo che ci pensa a lui a mettere una buona parola, sono bugie. Venite a me, volgetevi a me e siate ora, adesso, subito, immediatamente, senza religione di qua, religione di là, salvati. Poi se vuoi andare nella religione, va, c'è, però la salvezza non viene dalla religione, non viene dai santi, viene da Gesù Cristo, dal suo sangue, dalla sua croce, dal suo amore, dalla sua morte, dalla sua resurrezione, dal suo spirito santo. Vogliamo svegliarci, nel nome di Gesù Cristo, amen. Prendiamo il suo gioco su di noi, il gioco dell'amore, il gioco della verità. Alleluia. Perché lui ha pagato i peccati, come dice Nesia 53, ha pagato per i peccati. E se sono pagati, e questo è il motivo che è morto sulla croce, è morto per pagare per i nostri peccati. Se andiamo da Gesù, i peccati non ci sono più. Togliamoci questa oppressione, riceviamo lettere di dolcissimi fratelli e sorelle, afflitti, disperati, dice, e io ho commesso questo peccato, è un peccato anche orribile. Tanti anni fa, e piango da anni, e quindi si sono pentiti mille volte questi qua. Però questa oppressione non mi lascia, è perché tu non vai da Gesù, perché viene il diavolo a condannarti. Apocalisse 12, il diavolo è l'accusatore dei santi. Perché c'è questa oppressione? Dopo ho pregato, e ripregato, e ho cesso tutte le candeline, mi sento ancora oppresso per il peccato brutto che ho fatto anni fa. Ti sei pentito, hai pianto, e sei perdonato. Cosa vuoi andare in giro a aspettare? Sei salvato, sei liberato. Fino quando credi che Dio non ti perdona, non sei perdonato. Non perché Dio non ti ha perdonato. Tu credi che non sei perdonato. E stai portando tu il fardello pesante sulle tue spalle. Esatto. Mentre Gesù ti ha liberato. E il sacco di patate rimane sulle spalle. Gesù ti ha salvato, ti ha benedetto, ti ha perdonato. Sei sul suo carretto celeste. Però le patate le tieni. C'è questo libro del pellegrinaggio del cristiano, che va alla croce e il fardello gli cade. Noi invece andiamo alla croce e prendiamo due fardelli. Vogliamo svegliarci. Sì. Mi serve un santo che intercede. Ma cosa deve intercedere? Che Dio ha già mandato l'intercessore, si chiama Gesù Cristo, e ha dato il suo sangue. Tutti quei sessanti messi insieme il loro sangue non ti perdonano. Ci vuole quello di Dio. Oh. Ha letto Isia 53? No. No, no. Vai, è la prossima scrittura. Verso 4. Per favore. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa di nostra iniquità. Il castigo perché abbiamo pace, le patate sono cascate dalle spalle e è caduto su di lui. Lui è venuto a portare le nostre patate, i nostri peccati. Lui, lui, lui. Perché è morto in crocio? Per pagare i nostri peccati. Cosa che noi non potevamo fare. Amen. E allora il castigo, avanti Angelo, il castigo per cui? Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. E mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Alleluia. Grazie, Signore. Forza, Isaia. Isaia 53, 4 e 5. Grazie. Quindi non dice mediante i mediatori religiosi. No. I mediatori religiosi è una storia inventata dalle religioni. Prendono un bel santo, un bel padre Pio, un bel... Dice, ecco, vedi com'è in gamba lui? Sì, ma Dio lo benedica se è in gamba. Ma non... Però lui non può intercedere. Non ha spazio al suo sangue per noi. Avrà spazio al suo sangue, eh? Dicono che aveva le stigme, va bene. Le avrà avute, non lo so, io non le ho viste. Ma le avrà avute anche. Ma quel sangue non ci salva, però. Serve il sangue delle altre stigmate. Gesù Cristo. Amen. Giovanni 7, 37. Nel nome di Gesù andiamo. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò. Se qualcuno ha sete, venga a me. Questo significa io, significa Gesù Cristo. Gesù Cristo ha detto venga a me e beva. Quindi, fratelli, da nessuna parte nella Bibbia dice andate da questo, andate da quello, da quell'altro, andate in questa religione. Ma Dio benedica i religiosi, gloria a Dio, Dio ama tutti i protestanti, i cattolici. Va bene. Ma, attenzione agli imbroglioni che dicono, se non passi attraverso di me, da Gesù non ci arrivi. Ma ti puoi spostare che mi fai ombra, per cortesia. Io vado da Gesù, anche senza di te, meglio senza di te e senza di me. Apocalisse 22, 17. Abbiamo finito, Giovanni 7, 37. Apocalisse 22, 17. Lo spirito e la sposa dicono, vieni. E chi lo ode, dica, vieni. E chi ha sete, venga. E chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. Apocalisse 22, 17. Capito, fratellini? Cerchiamo di svegliarci qua. Forza, fratelli, forza, andiamo da Gesù. Ti ringrazio, Gesù, per l'acqua della vita che ci ha dato questa forza di confidare in te, di avere fede, di deponere i nostri fardelli ai tuoi piedi e non portarli più, nel nome di Gesù. Gloria a Dio, gloria a Signora. Posso ripetere qualcosa? Certo. Allora. Quale? Apocalisse 22, 17. Allora, aiutami te lo spirito. Lo spirito e la sposa dicono, vieni. E chi ode, dica, vieni. Chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono dell'acqua della vita. E quello è Gesù. Alleluia. Fratelli, Dio vi benedica. Amen. Tanto amore. In nome di Gesù, Signore, dai tanto amore dolce, semplice, bello ai fratellini. Signore, dagli una bella giornata, Signore. Signore, i fratelli che escono di casa stamattina vanno nel mondo, nelle tenebre senza Dio, del mondo, dove tutti sorridono. E c'è così tanta falsità, Signore. Ti sorridono, ti dicono, buongiorno, come va? Che bello vederla. Sembra, a volte, più una maledizione che un buon augurio. Non puoi fidarti di questo mondo che ha crocifisso Gesù. Signore, dacci, Signore. Pazienza con chi ha bisogno di pazienza. Amore con chi ne ha bisogno, tutti quanti. Chi ha sete, venga. Chi vuole, prenda in dono. È un regalo. È gratis l'acqua della vita. Chi vuole, molli le patate sul carro e goda e guardi le nuvole, guardi il cielo, l'aria fresca, può anche piovere. Godiamo anche quello. Grazie, Signore. Nel nome di Gesù, amiamo, Gesù. Ti benediciamo. Grazie, Signore. Gloria a te, Gesù. Alleluia. Io vi benedico, fratelli. Ameno. Abbiate una bellissima giornata. La mente sul Signore. Mai guardare le pozzanghe del nemico. Guardare al Signore. Oggi guarderemo le persone dove lavoriamo, dove andiamo, con amore. Diremo buongiorno. E quando è possibile un piccolo... Oh, Dio ti benedica. Nessuno dice questo. Nessuno nel mondo si benedice. Sì, a volte fanno sorrisi, ma a volte ti maledicono più che benedirti. Perché non conoscono Gesù. A volte è così. E allora un piccolo Dio ti benedica. Grazie. Dio la benedica. Grazie. Abbi una bellissima giornata. Pregherò per lei. Va bene. Diremo questo è religioso. Però hai dato un po' d'amore. Sì. Appena approcciato. Se il discorso... Si apre il discorso. Spiegare che è religioso. Non lo sei. Io non credo nella religione. Li rispetto ma non ci credo perché la religione è un mestiere come un altro. E allora la gente pensa. Caspita, non è religioso. Ma stai a vedere che c'è veramente un Dio. Ma stai a vedere che c'è veramente un Gesù. Grazie Signore. Amen. Grazie Gesù Signore. Amen. Ti amo Gesù. Ti amo Gesù. Io vi benedico fratelli. Ma se mi è capitato a me una volta era un campeggio. Era vuoto il campeggio perché abbiamo lasciato lì... Mi pare che c'era anche giù. Come guardiani siamo lasciati lì, no? Sì? Sì. Era in Italia. In Italia, sì. E gli ha detto guarda, siccome ci facciano stare gratis, gli ha detto guarda... Lui mi fa, il padrone, devo chiudere il campeggio. E finita la stagione. Gli ha detto perché non ci lasci qui dentro d'inverno? Faremo i guardiani. E lui si è messa lì. Devo guardiani? Sì, faremo i guardiani. Insomma è tornato dopo un paio di giorni fa. D'accordo. Ti accettiamo come guardiani. Si fidava di noi. E sono lì una sera che sto pregando sotto gli alberi. E mentre era sera, c'è stato... Ma tardi, è stato l'11 di sera, l'11 e mezzo, silenzio nel campeggio. E vedo un gruppo di... Erano tre uomini o tre ombre che camminavano nel campeggio. L'ho pregata, sì posso andare. Sì mi dice d'accordo. Sono andato. Ho detto, dove andate? Il campeggio è chiuso. E allora tutti cominciano di... Guarda, noi questo lo facciamo sempre. Saltiamo il recinto perché andiamo a pescare. Saltiamo, andiamo... Perché il campeggio era sulla spiaggia. Che evangelizzavamo in quella regione. E si era preveduto un campeggio gratis. E ho detto, ma... Conoscete il padrone? Ha dato il nome. Sì, sì, ma siamo amici. Noi qui, veniamo qui a fare le vacanze. Qui, però... E qui dobbiamo saltare il recinto per arrivare a questo punto. E allora io ho pensato e ho detto, ma... Mi sembrano sinceri. Allora gli ho detto, va bene, andate e Dio vi benedica. Ma gli altri Dio vi benedica senza pensare. E poi senza ne sono andati. Li ho visti dopo, mi pare, due o tre settimane. Li ho visti di nuovo. Mi dice, sai, quella sera non abbiamo mai preso tanti pesci come quella sera là. E abbiamo parlato tra di noi. Come mai tutti questi... Non so cosa pescavano. Non mi ricordo cosa pescavano delle cose. E tra noi abbiamo parlato. E sai cosa abbiamo capito? Perché tu ci hai benedetto. Quella sera è andata eccezionale. E allora ricordatevi, fratelli, che mi dice in Isaia 55, nessuna parola torna a me a vuoto, dice il Signore. Nessuna parola. Se quando benedite lo fate col cuore, con la parola, sarà una benedizione anche per l'ateo, anche per l'anticristo che magari è un pochettino alla ricerca. Lo porterà magari alla salvezza. Nessuna parola tornerà a me a vuoto. Dio vi benedica, fratelli. Un bacio grande, grande, grande. Scusate che mi sono allungato stamattina. Grazie Gesù. Ciao fratelli, un abbraccio forte.